Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio parlare delle finestre che sono tutte uguali Ma sei proprio sicuro che una finestra valga l'altra? Sei proprio sicuro che una finestra acquistata da un'azienda o da un'altra azienda ti darà comunque lo stesso tipo di risultato? Non ti voglio deludere ma purtroppo non è così e ti spiegherò in questo video i motivi per i quali ti sto dicendo questo Perché una finestra non è come una macchina, come un'autovettura, ad esempio una Mercedes o una Porsche Che sì, potrà cambiare leggermente l'esperienza di acquisto se vado a un concessionario multimarca, se vado a un concessionario Porsche O se vado direttamente a stoccare, a ritirare la macchina Però la macchina che mi ritroverò sotto il sedere tutti i giorni, che mi dà la piacere di guida Sarà comunque la stessa perché è uscita dalla stessa fabbrica Per le finestre non vale lo stesso ragionamento Perché ti faccio un esempio Sciucco, che è una delle finestre migliori che si possono scegliere Probabilmente la migliore in alluminio Non fa finestre Io quando dico questa cosa vedo dall'altra parte tutti scioccati Come non fa finestre? No, produce materiale per finestre Quindi produce gli ingredienti per fare le finestre Ti faccio un esempio per farti capire meglio Ad esempio se facciamo finta che Sciucco produca ingredienti da mangiare Ingredienti per fare la catalana Quindi andiamo io a comprare gli stessi ingredienti dall'asciucco per fare una catalana Poi ci vai anche te E poi ci mandiamo anche Massimo Bottura Avremo tre risultati Cioè aspetta Almeno che tu non sei Massimo Bottura Se sei Massimo Ciao Massimo In tutti gli altri casi avremo tre risultati veramente diversi E quello di Massimo sarà nettamente migliore rispetto agli altri due Eppure gli ingredienti erano sempre sciucco Eppure nel preventivo avevo letto sciucco Come vedi delle finestre non va la stessa cosa Ma facciamo un altro esempio Tu mi potresti dire Ma io compro una finestra di marca nota Compro una finestra di marca nota Configurata alla stessa maniera Esce dalla stessa fabbrica E in questo caso potrebbe essere vero Ad esempio con Inter non potrebbe essere così Però c'è un altro fattore molto importante Che la finestra va posata E la posa in opera è il 75% del risultato Quindi la stessa finestra posata male Sarà come la porsi di prima Che non la riesci più dare Perché doveva fare i 250% E invece fa i 180% o i 150% E non otterrai il risultato che volevi Ma facciamo finta Anche se non è vero Che le finestre sono uguali Facciamo finta che se non è vero Che le posa in opera sono tutte uguali In questo mondo siamo tutti belli Siamo tutti bravi E siamo tutti buoni Ed è bellissimo Ma poi c'è anche un problema di assistenza nel tempo E c'è un problema anche di garanzie Ecco perché nelle finestre Una non vale l'altra Quindi se anche tu Se tu pensi che una finestra vaga l'altra Vai da qualsiasi parte Se invece pensi che ci sono delle differenze Sia di soluzioni Ma anche di servizio e di garanzie Puoi leggerti le più di 200 recensioni positive Che abbiamo con il sistema Bisacchi E puoi richiedere partendo con una consulenza Da www.bisacchi.it Metti mi piace al video E segui il canale Ciao E al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!